Sono l'idea poet. Sono un avvocato. Non pensavo che le donne potessero fare certi lavori. Se Dio ti voleva avvocato, non ti faceva donna. Giusto. Signore, ordine! Posso vincere. Non vincerai mai. Non essere pessimista, cazzo! Come dice, signorina? Niente. Ops. Ognuno di noi lascia delle tracce. Che fanno? Si chiamano impronte digitali. Impronte digitali. Digitali, esatto. E assurbità. La chiami, scusi? Lidia. La sorella pazza. Cosa cerchiamo? Non ne ho idee. Il mondo non è ancora pronto per quello che sta facendo. Possiamo perdere, ma almeno proviamo a combattere. Take your home! Non lo 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 non